Eccoci al Mipel in compagnia di Andrea Buonaguidi del brand Roberta Pieri. Buongiorno. Raccontaci un attimo la storia di questo brand. La storia di questo brand è legata alla famiglia Nottoli, famiglia che da molti anni è nel settore dei materiali, materiali di alta qualità. Nel 2013 decide di aprire un laboratorio interno e da lì sviluppare un prodotto finito a partire appunto da materiali di alta qualità e finiture nello stesso livello. Quindi attenzione, grande attenzione ai dettagli. Bene, raccontami un attimo magari anche i materiali che utilizzate. Allora come potete vedere i materiali che noi utilizziamo sono il nylon principalmente e le finiture in pelle. Entrambi appunto di alta qualità. Ma dimmi un po', questa collezione raccontamene qualcosa di più anche delle nuove collezioni, le nuove direttive del brand. Allora la nostra fantasia iconica è questa, si chiama tatami, è una fantasia che noi proponiamo in varie varianti di colore. In questa stagione, che è per noi la stagione invernale, abbiamo voluto continuare la tradizione del tatami proponendo uno shading più invernale. E mentre per quanto riguarda il floreale, che continua ad essere una delle nostre due collezioni più vendute, abbiamo voluto presentare una paletta di colori più di rottura, come potete vedere. Ma che comunque pensiamo possa piacere molto anche in questa stagione. Perfetto, quindi direi che questa è una collezione nuova, giovanile. Questa è una collezione comunque giovanile, ma molto più classica, tradizionale, elegante. Bellissima questa borsa, ma è un po' particolare questo design o sbaglio? Sì, è un nuovo prodotto che abbiamo inserito dall'ultima stagione. La risposta del mercato è ottima in questo momento. Perché? Perché in realtà questa non è una semplice handbag, ma può essere portata come un zainetto dietro le spalle, oppure addirittura facendo un movimento di questo tipo può diventare una crossbody. Ah, ecco, c'era qualcosa che... È semplicemente così. No, bellissime. Cioè, tre borse in una, cioè, ma... Oppure anche in asco. No, bellissima, bellissima, mi piace un sacco. Poi comunque come colore, gamma cromatica. Grande leggerezza. Leggerissima, cioè... Semplicità. Bellissima, bellissima. Grazie, grazie di averci raccontato questa nuova collezione meravigliosa. Grazie a voi per l'interesse. Dimmi un attimo, voi distribuite solo in Italia o anche all'estero? No, noi siamo presenti in Europa come distribuzione e poi principalmente in Asia, nei due mercati di riferimento, che sono il Giappone e la Corea del Sud. Inoltre abbiamo da poco attivato una funzione e-commerce sul nostro sito www.robertapieri.com Ottimo, così se voglio acquistare non devo andare fino a Firenze. Certo, Firenze dove abbiamo il nostro negozio diretto in Via dei Fossi. Perfetto, allora dimmi un attimo il sito. www.robertapieri.com E allora tutti sul sito, cioè... Vi aspettiamo.